Brutta battuta d'arresto per la Betaland Capodorlando a Masnago dove i paladini cedono per 82-58 al cospetto della Open Job Metis Varese, sopraffatti dall'energia e dalla maggiore precisione dei padroni di casa per tutti i 40 minuti. Un passo indietro rispetto alle ultime incoraggianti prove dei paladini in campionato, quattro vittorie nelle sei gare precedenti a questa, in una partita che si è spezzata dopo la metà del secondo periodo quando Varese ha preso il largo con un parziale di 12-0, punendo le troppe palle perse dei giocatori di coach di Karlo e capitalizzando una notevole attività a rimbalzo d'attacco sospinti da un mostruoso Tyler Kane. Accenno di reazione dei siciliani nei primi minuti del terzo periodo, ma con le tripe di Yokoi e Ferrero Varese ha ripreso subito il controllo della partita e il vantaggio dei padroni di casa è lievitato col passare dei minuti fino a raggiungere il più 26 di avvio ultimo quarto. Serata da dimenticare per l'Orlandina, rientrata subito in Sicilia per preparare la sfida di Basketball Champions League contro i Turchi del Gheziantep, in programma domani sera alle 20.30 al Palasicheli Archivi. In A2 è la Leita Ostrapani a festeggiare suo il derby contro la Moncada a Grigento, vinto dai Granata 87-77. Partita molto equilibrata nei primi due quarti del Palaconade, con l'accelerazione definitiva dei padroni di casa arrivata dopo l'intervallo, piazzando il break decisivo di 23-15. Ottima prestazione di Jefferson, autore di 25 punti conditi da 4 assist, mentre tra le file agrigentine di Coach Ciani, degne di nota le prove di Cannon e del solito Evangelisti, con rispettivamente 19-18 punti.